Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda parte di agosto 2022. Ok, carta del mondo, amici della Vergine, periodo di compimenti, di conclusione cicli e anche di rinascite, perché no? Quando c'è la carta del mondo si parla di viaggi, anche di trasferimenti, proprio di cambio di stato insomma, trasferimenti di lunga distanza. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi dicono. Fai uno sforzo e dipendenza reciproca. Oh wow! Fai uno sforzo, per il grande amore vale la pena di compiere i passi che ti vengono indicati. Dipendenza reciproca, situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Quindi qui si tratta di qualche dipendenza fisica, nel senso che magari è una questione pratica, questioni economiche, oppure si parla di qualche tipo di dipendenza emotiva, emozionale, insomma. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi non risuonerà tutto. Se non risuona se niente o se volete completare il vostro messaggio, potete ascoltare anche l'ascendente, il segno lunare o venere. Se volete contattarmi, trovate la mia mail nella descrizione qui sotto al video. Partiamo con un asso di coppa al contrario, il mago e un fante di bastoni. L'asso di coppa al contrario in realtà stona un po' nella lettura, perché comunque abbiamo la carta del mondo. Si parla di compimenti, chiusure e inizi e l'asso è proprio l'inizio. In questo caso si parla di qualche cosa che inizia da un punto di vista energetico perlomeno, o magari anche pratico, perché l'alchimista è colui che manifesta, ma manca il cuore fondamentalmente, manca qualcosa legato a una profondità emotiva. Andiamo a vederlo poi dopo con i mini tarocchi. Il principe di bastoni potrebbe essere una persona che voi state desiderando in questo momento, potrebbe essere la vostra attitudine. Credo che sia più la persona di interesse. E questo cavaliere di denari ci fa capire che qui le cose stanno andando avanti un pochettino a rilento, se non addirittura sono un po' ferme. Ma non la vedo tanto come una cosa negativa, cioè nel senso è prudenza più che tutto. Abbiamo la luna al contrario, e la luna al contrario parla sempre di qualche cosa che viene a galla dal passato. Quindi qui probabilmente c'è o una paura che sta un po' risalendo, o determinate proiezioni, credenze limitanti, che si sono comunque accumulate nel passato. Ce la vedo un po' vicina a questa carta, dipendenza reciproca, perché la dipendenza si crea con il tempo. Ok, andiamo a vedere come terminiamo la stesa. Abbiamo la carta della giustizia e l'imperatrice, quindi terminiamo bene, direi. Perché la carta della giustizia parla di... Guardate, avete tre arcani maggiori alla fine e un arcano maggiore qui all'inizio. La giustizia parla di qualcosa che viene messo in equilibrio. Si tratta di giustizia divina per molti aspetti. Quindi, per qualcuno potrebbe fare riferimento ad un contratto, a qualche cosa che ha a che fare con le questioni burocratiche. Mi parlano di affidamento? Per qualcuno risuona magari? Fatemi sapere poi nei commenti. Come se la causa di affidamento andasse a buon fine, ok? Quindi è una buona notizia, nel senso... Però comunque la giustizia molte volte arriva anche proprio per tagliare con la spada quello che non serve più. E qui si fa riferimento a quelle paure del passato che stanno venendo a galla. La carta dell'imperatrice è una carta che parla di abbondanza, di prosperità, di creazione, di generazione, di madre anche. Si va verso quello che è l'abbondanza, comunque, ok? Vista così una bella stesa, il fante di bastoni in effetti potrebbe anche fare riferimento ai figli, perché i fanti fanno riferimento o a persone comunque giovane o appunto ai figli. Quindi qui il desiderio potrebbe essere o quello di avere un figlio o quello di avere un legame, in un certo senso un po' più profondo, un po' più stabile, con questa persona, con questo principe di bastoni. Andiamo a vedere l'asto di coppe. Perché è ribaltato l'asto di coppe? Abbiamo un 2 di bastoni al contrario e un 9 di coppa al contrario. Credo che, allora, il 9 di coppa parla, come anche la luna, di qualche tipo di sogno, che è come se non riuscisse a realizzarsi, no? Sento che molte persone fanno fatica proprio a guardare avanti, a guardare al futuro con una prospettiva positiva. Ma avete il mondo e cambia, qui cambia qualche cosa. Quando arriva al mondo ci sono sempre dei cambi che sono veloci, ma comunque per il vostro più alto bene. Andiamo a vedere l'alchimista. Abbiamo un 6 di spade e il reddicoppe. 6 di spade parla di alcune credenze, piuttosto che pensieri o atteggiamenti, che è necessario lasciarsi indietro. Potrebbero anche essere alcuni attaccamenti di tipo emotivo, e ve lo dico perché qua appunto c'è la dipendenza reciproca. Magari state sviluppando questo tipo di dipendenza col partner perché l'avete sviluppata in famiglia. Ho questa sensazione. Anche se comunque con la carta dell'alchimista vi vedo come se qualcuno avesse preso consapevolezza per certi versi, quindi state cercando di creare una nuova realtà. Andiamo a vedere questa principessa di bastoni. Abbiamo un fante di denari al contrario, un 8 di spade e la carta del matto al contrario. Queste due carte le vedo abbastanza collegate, nel senso che comunque questa vi fa capire che vi dovete allontanare da dei pensieri limitanti, questa vi fa capire che invece ci siete proprio in mezzo. Fondamentalmente vi state creando una gabbia mentale a furia di pensare negativo, ok? Anche perché questo alla lunga poi deteriora, come vi dicevo prima, la vostra capacità di guardare al futuro con positività. È come se iniziaste... La gente che si lamenta sempre, che vede sempre tutto negativo, alla fine perde anche proprio la fiducia nella vita stessa, ok? Andiamo a vedere il principe di denari. Abbiamo un 7 di denari e un 5 di coppe. Qui si tratta... Queste sono due carte che hanno un'energia molto lenta e il 5 di coppe è una carta che identifica un'energia di carenza, ok? Io credo che qui quello che manchi sia una reale determinazione, un reale entusiasmo per andare avanti dentro questa cosa. Di nuovo, ho forte, forte, forte il riferimento ai figli. Per qualcuno qui il problema è che si fa fatica a rimanere incinta o non si riesce a rimanere incinta. O probabilmente qualcuno sta ancora vivendo quel tipo di paura. Andiamo a vedere la luna. 4 di pentacoli al contrario, qualche cosa del passato a cui si è attaccati, o potrebbe essere qualche cosa di materiale, perché abbiamo due carte di pentacoli, una proprio delle due esprime l'attaccamento e il 9 di pentacoli esprime l'indipendenza, che essendo girato al contrario esprime la dipendenza in questo caso, ok? Quindi qui c'è qualcuno. Credo che molte persone preferiscano rimanere nella situazione in cui sono, anche se si rendono conto che magari è una proiezione della loro felicità, non è reale, ma è un po'... come dire, si vede a metà, è vera a metà. Però nonostante questo ci sia questa sorta di attaccamento a qualche energia del passato che vi impedisce di staccarvi da questa situazione, da questa relazione o da questo modo di pensare. Andiamo avanti, vediamo la giustizia. Abbiamo la stella al contrario, il carro e l'imperatrice. Tre arcani maggiori per spiegare un arcano maggiore. Quindi si va verso la fine del periodo con un'energia molto intensa, molto forte. C'è bisogno veramente di ritrovare la speranza, c'è bisogno di ritrovare quello che è. Mandate luce alla situazione, alla relazione, se per voi fosse l'ufficializzare o il cambio comunque di questa relazione. Perché qui comunque con la carta del carro e la carta dell'imperatrice si va verso quello che è successo, c'è la carta della giustizia e quindi qualche cosa a livello positivo cambierà. Vi ricordo che avevate il mondo. E il carro è la scelta superata con successo. E anche questa, come il mondo, parla di un viaggio, di uno spostamento. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo un cavaliere di spade, un fante di bastoni nuovamente, ma al contrario è un fante di coppe. Tante figure. Qui fondamentalmente parla di determinazione e la rivedo in questa carta quando vi dicevano fai uno sforzo, perché per il grande amore vale la pena di compiere i passi che vengono indicati. Quindi è un po' il puntate l'obiettivo, che non vi fate distrarre se non arrivano aiuti dall'esterno, se così andate avanti passo dopo passo, giorno dopo giorno, piano piano. Vedrete che le cose cambieranno. Voi magari adesso non me ne rendete ancora conto, però la carta del mondo ce l'avete, quindi il cambio ci sarà. Andiamo a vedere qualche carta in più per le persone single. Abbiamo un fante di denari, al contrario, la carta della stella e di nuovo la carta della giustizia. Quindi anche qui si tratta di... Per molti questo fante di pentacoli rappresenta una persona che è il caso, è ora di lasciarsi indietro. O comunque una persona con la quale o non siete in contatto, o non avete più la possibilità di... di avere uno scambio, diciamo così, no? E... Mentre voi invece avete un desiderio, un sogno, ben ben chiaro nella vostra testa. Anche qui c'era la stella al contrario e qui avevamo i sei di coppe al contrario. Qui di nuovo, per giustizia divina, arriva quello che è il compimento di questo sogno. Quindi, se ci fosse qualcuno che sta aspettando un ritorno, diciamo così, il fante di coppe è al contrario, ma è qua. Quindi è nell'aria, potrebbe esserci un riavvicinamento da parte di qualcuno, anche perché c'è la luna, quindi potrebbe essere che qualcuno torni dal passato. Per giustizia divina, eh? Per giustizia divina. Ok, andiamo a vedere. Per le persone che hanno una relazione stabile, abbiamo un cavaliere di bastoni, la carta del mago nuovamente, qui si tratta di mettere la carta dell'imperatore e il tre di coppe al contrario. Qui si tratta di metterci entusiasmo, di non farvi distrarre da quello che è il vostro obiettivo di coppia, mi verrebbe da dire, perché qui siete alla ricerca di qualche tipo di stabilità concreta. La vita sociale forse è un po' carente, mi verrebbe da dire, vedendo questo tra di coppa al contrario, ma credo che sia perché appunto stiate cercando di manifestare qualche cosa tra di voi, all'interno della coppia, proprio perché c'è comunque anche questo mago, no? Che è un po' l'energia che avevamo anche qui. Si va, guardate, qui c'è imperatrice e qui c'è imperatore. Si va verso quello che è la prosperità. In un certo senso questo tra di coppa al contrario lo sento come una non distrazione. Ok, andiamo a vedere per le persone che hanno una relazione di tipo diverso. Abbiamo un asso di spade, un otto, scusate, un nove di bastoni, la sacerdotessa al contrario e un cinque di spade. qui queste due carte io le sento molto connesse nel senso che avete bisogno di creare un vostro ordine mentale perché qui né state ascoltando l'istinto né avete chiarezza mentale. In questo momento vi state solo difendendo, State mettendo delle barriere. Per qualcuno potrebbero essere delle barriere legali nel caso magari siate in separazione o appunto potrebbe essere che nel caso di questo gruppo questa carta potrebbe rappresentare il fatto che ci sia un matrimonio di mezzo ok? Che in qualche modo impedisce la realizzazione del vostro sogno. In effetti vi sento in una fase quando c'è il cinque di spade al contrario parla proprio di manipolazione mentale ed ecco perché la dipendenza reciproca. Quindi qui si tratta per voi di imparare a canalizzare quello che è il vostro messaggio quello che è la vostra verità quello che è capire quello che rende felice voi indipendentemente da quello che vi dicono gli altri. Ok andiamo a vedere ancora un paio di oracoli per concludere la stesa wow guardate qui c'è l'olfante di coppa al contrario ma a quanto pare per qualcuno arriverà quello che è una chiamata d'amore o un messaggio potrebbe essere ok? Comunque arriverà diciamo così una notizia romantica di tipo romantico quindi anche per chi stesse aspettando il ritorno di qualcuno arriverà questa chiamata tanto attese insomma andiamo a vedere ok questa carta vi ricorda che voi siete il mago fondamentalmente sta a voi imparare a visualizzare bene nel dettaglio quello che volete perché è proprio questo tipo di visualizzazione che crea diciamo l'emozione con cui poi vibra la vostra anima ed è quella la vibrazione che emettete all'universo è come se fosse quello il messaggio guidato l'universo cari amici della vergine questo è quello che avevo per voi spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile io vi ringrazio di esser stati qui con me vi mando un abbraccio ci vediamo nei prossimi video ciao ciao